C'è stata la prima assemblea della società in house che si è appunto limitata a prendere atto delle dimissioni e sulla base del nuovo statuto che prevede appunto la decadenza dell'intero organo di amministrazione qualora venga meno la maggioranza dei componenti dell'organo stesso, di fatto abbiamo preso atto della decadenza del CDA attribuito secondo statuto i poteri di ordinare amministrazione al collegio sindacale e abbiamo riconvocato l'assemblea per martedì 10 agosto al fine di definire tutte le fasi successive quindi per la ricomposizione dell'organo amministrativo uscirà l'organizzazione della nuova governance e si avvierà il percorso per la nomina dei nuovi amministratori che dovrà essere ovviamente gestita dal comune di Teramo sulla base di un avviso pubblico di un bando che sarà pubblicato nel mese di agosto e quindi possiamo dire che nel mese di settembre avremo la composizione, la ricomposizione dell'organo amministrativo e quindi il passaggio, la chiusura del ciclo della TEAM mista alla TEAM in house che oggi è pienamente operativo si compirà e andrà pienamente a regime la decadenza di oggi è una decadenza che deriva dalla norma del codice civile dallo statuto della nuova TEAM e quindi non ha nulla a che vedere con altre situazioni che seguono e seguiranno il loro corso questa domanda mi consente di ringraziare con tutto il cuore tutti i componenti del CDA per l'attività che hanno svolto nel corso di questi mesi soprattutto in una fase delicata che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo straordinario di restituire continuità e prospettiva attraverso l'inaos ad una società particolarmente complessa ma che deve avere davanti un futuro rosio attraverso una gestione al servizio dei cittadini e non della politica come purtroppo negli anni precedenti è stata la società stessa e ne abbiamo pagato le conseguenze nei primi anni anche dal punto di vista operativo si va avanti abbiamo installato altre due coisole in centro storico proprio per le attività commerciali al fine di ripristinare il giusto decoro al nostro centro storico ed evitare rimuovere quelle situazioni che da tanti, troppi anni per un'incapacità di programmazione di chi ci ha preceduto la nostra città ha vissuto